Buongiorno Toscana, buongiorno Firenze, eccoci qua, ci sentite forti e chiaro? Ti è roba, nella nostra radio questo nuovo favoloso bestione, parlavo del mixer, del nuovo fantastico, fantasmagorico, guarda che roba, sembra avere una miscella spaziale lì in regia. E ora che anche voi siete pronti a sentirci sempre meglio grazie alla tecnologia Axia e proprio grazie a questo nuovo mixer, a questo nuovo modo di concepire il suono, siamo nel futuro Masti! Siamo a Firenze in Toscana e siamo qui a Radio Toscana, Radio Firenze per l'appunto, realtà storiche della radiogonia locale e regionale. Alessandro Masti, Jonathan Menzi, il migliore conforto! No, no, lasciamo stare, non importa, siamo qui per parlare delle vostre radio, adesso c'è stata questa nuova innovazione tecnologica che ha... Volevamo arrivare ancora più forte e chiari alle persone perché Radio Toscana è una radio che parla al territorio e ai toscani in modo particolare che ogni giorno ci seguono, ma quando si dice che i mixer Axia fanno miracoli, signori, esce fuori con una voce che sembri... Sembro, sembro Luha Ward, lo ammetto lui! E quindi insomma, davvero, è fantastico, fantastico tutto questo. Arriviamo ancora di più agli ascoltatori di Radio Toscana, non so quanto sia un bene, pensando a che folla mattina, ecco, però ci sono tanti altri appuntamenti straordinari in questa radio. L'informazione, i giochi, insomma, la musica, anche la qualità della musica, sembrava impossibile riuscire a migliorare, invece ragazzi, è stato proprio un gioco da ragazzo. E questo anche su Radio Firenze 95.4, nella nostra radio musicale, Target Giovane, dove abbiamo scelto il suono di Axia e di Omnia anche qua. Seguiteci, seguiteci, i giovani, gli anziani, seguite un po' tutti. Mi raccomando, Radio Toscana, Radio Firenze, numeri uno. Al prossimo episodio